scusate ma io avrei visto dentro libro di letterature esercizi for tomorrow and sinceramente non ho capito bene allora io leggere number one ricostruzione scientificamente il testo la vita di mezzerio dell'infanzia è la vecchiaia essenzialmente io non ho capito quale punto di esercizio could you please explain me in the comments right now andiamo al prossimo number two neretologia spiegge piaci nella lunga sequenza di ITI ITI L A L A Los Angeles proxpetive di lipo teltico varianzanti trasforma il personaggio di mezzerio E' un essere feivoloso. Parliamoci chiaro. Io non so cosa ci faccio qui. Cosa aver fatto di male? Cosa aver fatto di male? Spiegatemi, please.